il mio primo ricordo in moto è quando ho iniziato con le mini moto a noleggio nella pista di gagliano park e facevo fatica andare sul rettilineo dritto andavo in quella perché comunque mi spaventava la potenza e il dover dare il gas per per stare per stare dritto diciamo e niente quelli è il mio primo ricordo se penso alle moto come ho iniziato io